cari amici sportivi eccolo qui il campione in assoluto di questo grandissimo match uomo match talent fabio mongelli buonasera buonasera fabio sulla carta era una partita di cartello invece sul rettangolo di gioco è stata piuttosto semplice anche da sottolineare che voi avete un potenziale tecnico abbastanza elevato si loro erano una buona squadra sicuramente noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà fin da subito poi fortunatamente siamo riusciti a trovare dei gol a inizio partita e quelli ci hanno aiutato quella partita è stata in discesa la tua prestazione fisica in attacco si fa sentire l'assenza di nando garrasi diciamo che si è fatta sentire pochino perché tu in attacco signori miei la verità si deve dire fabio sei un capolavoro grazie ciccio no sicuramente con nando facciamo una bella coppia purtroppo oggi non poteva giocare aveva un piccolo problema fisico speriamo che per la prossima rientra e ci dà una mano perché c'è bisogno anche di lui le tue previsioni riguardante questo torneo ho visto che ci sono diverse squadre buone anche dall'altra parte nell'altro girone ci sono due tre squadre abbastanza compatte e ben organizzate speriamo di beccarli e riuscire diciamo a mettere in difficoltà anche loro noi sicuramente puntiamo a vincere il torneo tu lo sai però non escludiamo di potercela vedere dura con qualche altra squadra ed eccolo qui fabio mongelli